Daniele Manetti Intanto complimenti per la resistenza, visto che parliamo di televisione, se dovessimo parlare di televisione lineare, adesso impariamo questo nuovo termine, la televisione lineare è la televisione tradizionale, diremo che non siamo proprio in prime time, però attenzione, visto che siete qui perché l'avete scelto, lo volete sentire, è come se fosse un programma di connected tv, quindi come se fosse un programma on demand e quindi l'attenzione di base sarà più alta, quindi di meno ma più attenti, che è un tema che ci porteremo avanti. Sottotitolo, ma dove ho messo il telecomando, in questo caso il telecomando non posso perderlo, è bello grande, perché? Perché è quella tipica frase che noi diciamo quando vogliamo cambiare canale e spesso non lo troviamo, molto spesso quando arriva la pubblicità e vogliamo cambiare canale, questo nell'esperienza della tv lineare. Vedremo che avviene molto meno spesso nella connected tv, in realtà avviene lo stesso, ma solamente perché le smart tv hanno un telecomando molto più piccolo, ma l'obiettivo non è cambiare cambiare canale. Intanto mi presento di nuovo, io sono Daniele Manetti, sono senior manager di Sojourn, responsabile per le destinazioni del sud Europa, quindi per l'Italia, Malta, Grecia e Turchia. Vedremo brevissimamente cos'è di Sojourn e questa è l'agenda del nostro incontro, quindi innanzitutto entreremo nella definizione, nelle definizioni anzi di connected tv, vedremo quali sono i trend globali della connected tv e faremo soprattutto un focus specifico sull'Italia e soprattutto sul comportamento del consumatore italiano, sul nostro comportamento di base. Molto spesso riporterò alla vostra attenzione le esperienze comuni facciamo durante la giornata nel consumo di connected tv. Infine vediamo quali sono ad oggi le opportunità per le destinazioni che si vogliono promuovere in termini di advertising su questo canale emergente. Molto velocemente una piccola presentazione di Sojourn. Sojourn è una piattaforma di marketing digitale leader nel settore travel ed esclusiva nel settore travel quindi i nostri clienti in termini di advertising vanno dall'hotel fino all'ente del turismo nazionale passando per tutto quello che ci passa in mezzo ed è interessante oltre al numero dei clienti la modalità con cui con cui lavoriamo. Vedete che al centro si parlano di 350 milioni di profili di viaggiatori real time. Che cosa significa? Significa che di base le audience che noi usiamo per il nostro digital advertising non sono delle audience generaliste, non sono delle audience demografiche, sono il risultato dei dati che in tempo reale ci arrivano da più di cento data partner, anche se tutti soggetti dell'industria travel, quindi dalla compagnia aerea alla compagnia di crociera alle OTA ai Metasearch, che in tempo reale ci passano i loro dati di ricerca e prenotazione. In questo modo sappiamo che questi utenti sono utenti caldi se vogliamo, noi li chiamiamo utenti con travel intent che è più facile ingaggiare soprattutto per una per una destinazione e che quindi sono più profilati per ricevere in maniera profigua un advertising del tipo eh del tipo travel. Ma questo è solo per introdurre di cosa mastichiamo e del perché del perché parliamo di connectivity che è uno dei canali possibili canali di eh advertising. Ora partiamo dalle definizioni. perché definizioni? Perché se girate un po' là e ne troverete tante, qualcuna vi potrebbe confondere, qualcuna si sovrappongono, altre sono semplicemente un punto di vista diverso. Cerchiamo di semplificare. Allora per Connect TV di base si intende qualsiasi televisore che abbia una connessione diretta a internet, quindi banalmente la nostra Smart TV, oppure un televisore non smart che però attraverso un eh un dispositivo riesce a diventare diciamo più intelligente o comunque riesce a diventare connesso. Nell'esperienza comune probabilmente l'Amazon Fire Stick è la cosa più eh più simile. Vedrete poi che ci sono queste altre versioni eh addressable TV, programmatic TV. In realtà molte sono semplicemente una sovrapposizione del termine. Qualcuna è un po' più specifica dell'industria eh dell'advertising. Programmatic TV riporta chiaramente al programmatic advertising che si fa sugli altri mezzi digitali. Addressable TV significa la capacità di poter in qualche maniera profilare il cliente che sta tenendo in quel momento la televisione per dargli un advertising diverso rispetto ad un altro. La cosa che qui ci interessa per renderla semplice è la contrapposizione, la comparazione tra connect TV, quindi chiamiamola eh CTV come normalmente eh avviene e la TV tradizionale, TV tradizionale che non sapeva di chiamarsi TV lineare finché chiaramente non è arrivato un un competitor. La TV lineare chiaramente è la TV tradizionale che ha un suo palinzesto non non è connessa a eh a internet. Ma vediamo a livello di connect TV scusate i trend eh globali in questo momento. Allora qui vedo un dato che è molto generico però vi dà il size, il peso eh l'ampiezza del fenomeno. Il settantasette per cento di tutti i minuti trasmessi in streaming a livello globale sono stati visualizzati su un dispositivo a grande schermo. Quindi questo significa che un ventitré per cento sicuramente dello streaming globale viene fruito attraverso altri dispositivi chiaramente il mobile piuttosto che i tablet ma il grosso va chiaramente va su grande schermo quindi su connected TV. In più abbiamo dei dati che ci dicono come questo fenomeno sia stato già in realtà recepito dall'industria dell'advertising. Sicuramente i millennials hanno una fruizione eh importante su connected TV. In termini pubblicitari il quaranta per cento delle impression video globale si invia al quaranta per cento delle pubblicità video sono andate su Smart TV con una crescita del trentuno per cento sull'anno precedente e vedete come anche eh gli addetti ai lavori della pubblicità quindi marketers piuttosto che le agenzie media già lo considerino un un canale importante per l'aumento della brand awareness e in termini di raggiungimento di un target efficace. Questo solamente per dirvi che ehm al di fuori del travel nel mondo a tech è un fenomeno che non possiamo più neanche definire emergente sicuramente lo possiamo definire in crescita soprattutto adesso che grandi player grandi piattaforme si stanno avvicinando eh all'inserimento dell'advertising avrete sentito sicuramente eh il discorso di Netflix seguirà nel duemilaventitré eh Disney Plus quindi questo ce lo rende ancora più eh più vicino però è un fenomeno che è già eh ben eh consolidato e l'Italia l'Italia in questo devo dire dobbiamo dire non è molto distante nel senso da questo punto di vista siamo già dei grandi fruitori siete già dei grandi fruitori di connected tv quindi vedete che l'ottantatre per cento della popolazione usufruisce di servizi streaming più di una volta a settimana il cinquantadue per cento li usa quotidianamente e questo sicuramente lo confermerete dalla vostra ehm dalla vostra esperienza ehm ancora quando andiamo in fase di comparazione qui adesso faremo tutto un focus sul eh sull'Italia eh connected tv verso connect tv lineare eh il settantadue per cento preferisce ha una preferenza stretta per i servizi in streaming rispetto alla tv lineare il sessantaquattro addirittura se fosse posto davanti a una scelta ne puoi tenere solo una manterrebbe la connected tv e poi interessante il numero il numero dei dispositivi quindi vedete che il ventisette per cento degli italiani ha almeno un connected tv il trenta per cento due il quarantatre per cento tre o più e questo tre o più tra l'altro è interessante per quel discorso che facciamo prima dell'addressable tv nel senso che nel momento in cui ci sono più dispositivi in casa anche all'interno di una stessa piattaforma di streaming probabilmente ci sono più profili utenti questo di base in teoria ma anche in pratica permette un targeting una profilazione diversa quindi guardando sulla stessa piattaforma nello stesso momento il eh televisore con profilo A può mostrare un advertising di un tipo legato magari alle scelte che sono fatte da quest'utente e qualcosa di diverso sul eh televisore B sul profilo B chiaramente queste percentuali aumentano all'aumentare del reddito quindi se consideriamo redditi familiari oltre i i centomila euro vediamo che addirittura il numero di tre connected tv è il settantadue per cento quindi c'è una stretta relazione in questo senso ora eh prima parlavamo del dei comportamenti mh guardare la tv lineare è un'abitudine la connected tv è una scelta attiva quindi io facevo la battuta appena voi eh appena sono entrato visto l'orario sicuramente non passavate di qua tanto per l'avete scelto e avete fatto una scelta consapevole questo dal punto di vista pubblicitario ha grandissime implicazioni perché il livello di attenzione che si mette davanti alla televisione è il discrimine che fa scegliere la media agency piuttosto la destinazione su un canale rispetto all'altro qui gli indicatori che vedete sono tutti molto più favorevoli alla smart tv eh un'abitudine solo il venticinque per cento rispetto a quasi l'ottanta della tv tradizionale maggiore facilità di trovare qualcosa da guardare sessantadue rispetto al venticinque programmi preferiti cinquantasette ventisette varietà dei contenuti quindi si può dire che chi ha lavorato sulla smart tv sicuramente ha creato dei bei eh dei bei prodotti che stanno riscontrando il favore del pubblico la battaglia per l'attenzione che è quella che interessa di più i marketers quella che interessa di più i pubblicitari quella che dovrebbe interessare di più anche le destinazioni e qui chiaramente hm se parliamo di attività alternative che si fanno davanti alla televisione anche qui la connect tv ne esce ne esce meglio eh passare da un programma all'altro ventisai per cento contro il quarantotto usare un altro dispositivo e stare davanti al televisore ma controllare il mobile trentaquattro contro il sessantatre guardare mentre si fanno le pulizie e poi un grande classico eh guardare mentre si mangia smart tv quarantuno per cento tv tradizionale sessantacinque per cento e qui veramente penso che ognuno di noi ha fatto un esperienza di una o più di queste situazioni io vi racconto banalmente a casa mia all'orario della cena si accende la televisione quando si cucina livello d'attenzione bassissimo tutti a tavola si spera di vedere il telegiornale noi siamo una famiglia numerosa come è andata a scuola eh il pesce non lo mangio il bicchiere d'acqua che cade livello d'attenzione bassissimo quindi io poi le notizie le guardo da un'altra parte allo stesso modo finita la scena che film guardiamo questa sera si abbassano le luci tutti sul divano attenti se qualcuno si alza una bimba si alza per fare pipì ci fermiamo per aspettarla capite che l'attenzione è totalmente diversa e anche l'attenzione per uno spot pubblicitario sarà diversa e più profittevole chiaramente la connected tv o comunque i grandi network di streaming sono nati anzi una delle loro leve è stata quella di essere senza pubblicità banalmente una delle scelte che fa il grande pubblico è quella sto lì perché non c'è la pubblicità però complice l'inflazione complice gli aumenti eh degli abbonamenti è una tendenza che si sta diluendo sta cambiando perché solamente il dodici per cento degli italiani preferirebbe eh pagare o pagare di più per avere un'esperienza totalmente senza pubblicità il quarantasette per cento ci ragiona nel senso è disposta a pagare qualcosa per avere una riduzione del canone dell'abbonamento che è esattamente l'operazione che ha fatto Netflix e qualcuno addirittura per vedere i ehm dei contenuti gratuiti avrebbe eh piacere di vedere la pubblicità quindi eh anche questa barriera sembra eh sembra superata ora abbiamo visto cosa sta succedendo nel mondo abbiamo visto approfondito cosa succede in Italia se volessimo riassumere i vantaggi da un punto di vista advertising della connected tv rispetto alla tv eh tradizionale quali potrebbero essere allora un grande cavallo di battaglia della tv tradizionale è il reach che nel gergo dell'advertising semplicemente è quanto è ampia la eh il pubblico al quale faccio vedere l'advertising e chiaramente i grandi programmi di di prima serata sulle reti nazionali hanno un reach enorme hanno un reach enorme però non targettizzato e con un tasso d'attenzione molto basso come abbiamo visto in realtà i volumi si stanno spostando mano a mano che si va avanti c'è maggiore consumo di connected tv quindi sta perdendo campo la tv tradizionale anche in termini di volumi la qualità quindi l'engagement l'attenzione è qualcosa di cui abbiamo parlato fino fino adesso ed è forse la cosa una delle cose più eh più importanti estremamente più attenti estremamente più sul sul pezzo i costi sono infinitamente più bassi è incomparabile diciamo il pricing di una campagna su connected tv rispetto a una campagna soprattutto su reti nazionali tv e poi quello che da un punto di vista ecco così professionale mi interessa di più i punti quattro cinque il il targeting e il reporting il targeting che significa ma questa grande reach che raggiunge la tv tradizionale che tipo di targetizzazione ha è il target giusto per il mio messaggio per la mia destinazione in realtà il tipo di target che abbiamo a livello di tv tradizionale è generalmente delle domande demografiche qualcosa legato agli interessi in funzione del programma che si sta vedendo ma siamo veramente molto molto grezzi in termini di eh di targeting entrando nel discorso della connected tv entriamo nel l'area del programmatic advertising quindi quello che già avviene sui canali digitali eh mobile mobile screen dove il targeting è estremamente più sofisticato nel caso specifico poi andremo a vedere un un caso italiano eh per il travel si possono usare audience con travel intent quindi far vedere un messaggio pubblicitario di una destinazione a un cliente che magari ha cercato già quella destinazione o le destinazioni concorrenti o sta effettuando una serie di operazioni online che ci permettono di dire che è vicino alla fase di prenotazione quindi che sta scendendo lungo il funnel stesso discorso riguarda il reporting anche qui la possibilità di avere ritorno sull'investimento in termini di eh di dati di azioni è estremamente superiore sulla connected tv rispetto alla tv lineare e si sta evolvendo chiaramente non esistono ancora ma ci sono dei test in giro degli annunci clickable sulla connected tv ma si stanno testando quindi sostanzialmente adesso il tipo di tracking è tra un device e l'altro ho visto l'advertising sulla tv poi sono andato sul mobile a ricercare la stessa destinazione ma già quello è un tracking che nella tv lineare non c'è quindi questi sono le comparazioni volevo portare eh alla vostra attenzione un caso pratico un caso reale eh di sistema fondazione toscana che è stata la prima destinazione italiana ci sono diverse in in Europa e soprattutto negli Stati Uniti ma è stata la prima destinazione italiana quest'anno a fare un'attività di connected tv in questo caso in collaborazione con Sojourn per il mercato americano quindi dopo due anni di pandemia l'obiettivo era quello di riattivare dal punto di vista il brand toscana su un mercato tradizionalmente molto favorevole che però dopo due anni col blocco del del long goal aveva persi i contatti quindi c'è stata una campagna che ha avuto la durata di quasi eh di quasi due mesi sul mercato degli Stati Uniti ma anche qui vedete la targetizzazione non tutti gli Stati Uniti siamo andati a prendere le città in questo caso che avevano le migliori connessioni aeree con la Toscana quindi con una maggiore possibilità di tradurre quel tipo di messaggio in un'azione sul territorio in una prenotazione anche qui erano utenti alla ricerca che avevano cercato destinazioni long goal quindi probabilmente avevano già cercato l'Italia avevano cercato un competitor dell'Italia quindi erano disponibili a fare un lungo viaggio e poi chiaramente si mettono insieme altri mh altri indicatori normalmente nel quando si fa un 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 video poi adesso non vedremo i video ma vedremo gli esempi il il KPI di di riferimento è la completion rate cioè qua fatte cento le persone che guardano il video quante l'hanno visto fino alla fine ok e questo ci dà un'idea dell'interesse del successo di quel eh di quel video c'erano due video uno specifico su Firenze una uno più sull'outdoor e comunque sul ehm sulle aree interne quindi che sono passati a rotazione parliamo di video di trenta secondi che nel digital è una diciamo eh metrica abbastanza lunga quindi immaginate persone negli Stati Uniti che stavano davanti alla televisione stavano vedendo un programma in streaming e hanno visto passare per trenta secondi uno di questi video sulla Toscana ispirazionali il risultato è stato molto buono perché è stato una completion rate del novantasette per cento quindi significa che no novantasette persone su cento hanno visto tutti e trenta secondi senza cambiare canale senza uscire dal l'app senza uscire dallo streaming in più parliamo di quattro milioni e cinquecento mila circa impression quindi visualizzazioni anche qui un reach piuttosto eh piuttosto anche e questo è un esempio di connected tv per le destinazioni io avrei terminato però abbiamo ancora del tempo libero se avete domande curiosità sul canale sulle 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 possibilità di applicazione rimango a disposizione eh mi scusi un attimo un sento un attimo ehm dicevo il targeting la profilazione avviene solo attraverso il tipo di programma che stanno guardando come se no chiarissimo no è esattamente il no in realtà il programma che si sta guardando non è un tipo di di profilazione che si viene utilizzato per la connected tv assoluto assolutamente si utilizzano gli stessi eh sistemi di profilazione che si utilizzano nel digital quindi mh di base in questo caso per una destinazione quello principale è stato il travel intent cioè se quell'utente prima della sua visione nella sua navigazione avesse fatto ricerche o prenotazioni per destinazioni a lungo raggio in un determinato periodo quindi in questo caso si intendeva intercettare un cliente che non era generico era un cliente che stava facendo delle ricerche ed era pronto a effettuare un viaggio possibilmente long goal dagli Stati Uniti quindi qui sono state inserite nello specifico tutti quei clienti di quelle città che abbiamo visto che su il sito di una compagnia aerea nostra data partner avevano fatto ricerche non prenotazioni perché ci interessava prenderlo ancora prima avevano fatto ricerche in generale per l'Europa quindi eh la signora Smith aveva fatto una ricerca New York Parigi per programmare un viaggio in Francia gli proponiamo l'advertising della dell'Italia in questo caso della Toscana per portarla da una destinazione competitor della Toscana verso la Toscana poi chiaramente queste audience vengono arricchite anche con ricerche legate agli interessi alle affinities però di base almeno nell'ambiente travel quello che noi cerchiamo di fare è lavorare quasi esclusivamente sul travel intent perché è quello che poi ci dà maggiore riscontro in termini di performance perché sappiamo che è già un audience calda non è un'utenza generica che è esattamente il contrario di quello che fa la tv eh lineare dove io magari vedo un bellissimo spot ma non sono intenzionato a viaggiare o magari sono appena tornato dalle vacanze quindi immaginate se avete un po' di di esperienza o di interesse di quello che avviene nella profilazione digitale online del programmatic trasportato su connected tv volevo fare una domanda visto il case è sugli Stati Uniti sappiamo che in Europa insomma le maglie della privacy sono un pochino più strette quindi non riesco a immaginare come potremmo fare una campagna pubblicitaria basata su un utente che ha cercato su Google quantomeno o su un sito di un'agenzia di viaggi o eh senza che quell'utente sia stato informato che il dato sarebbe poi andato finire anche su una connected tv ma forse è meno complicato di così o abbiamo questo tipo di no in realtà è un argomento di grande attualità e di che che non non coinvolge solamente la connected tv ma coinvolge in realtà tutto l'advertising digitale sia per il discorso legato al trasferimento dei dati dall'Europa agli Stati Uniti ma questo è un altro discorso sia per quello che sarà la deprecazione dei cookies da parte di Google da qui a due anni che viene ogni anno eh posticipato per la gioia o meno degli advertiser allora immaginate che di base il tracking avviene tutto attraverso cookies in questo momento e bisogna chiaramente accettarlo questi cookies spariranno non sarà più possibile utilizzarli eh l'industria advertising sta cercando altri modi che siano eh GDPR compliance per questo tipo di tracking ce ne sono vengono già utilizzati si parla di hash di mail quindi di mail in qualche maniera criptografate e mh e sarà un qualcosa che utilizzeranno tutta l'industria dell'advertising però è una domanda molto corretta perché è di grande attualità grazie grazie a tutti grazie